Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Tech4Play Ciao Ragazzi siamo qua su questo server Leggissimo a fare Lucky Wars Perché a noi i Lucky Wars piacciono E quindi siccome non lo portavo così da per tanto tempo Ragazzi voi tutti sapete i problemi però E' giusto portarlo in alto perché le mappe sono diverse E il plugin è veramente fatto bene Quindi ci sta Ma puoi shoppare qua? Io non ho soldi quindi non posso E metano non può shoppare Ok ragazzi allora Ce l'ho fatta shoppare anche se effettivamente non avevo i soldi Ma questo è perché probabilmente L'avevo finito sugli Sky Wars Quindi l'avevo perfetto Comunque io ho trovato l'arc con Power 1 E l'armatura in oro con Protection 3 Davvero? Si che fortuna anche i blocchi e tutto Allora qua i Lucky Block non so quanti siano Oddio Ho trovato anche un bar Tu cosa che ti manca? Che al limite te la passo io No io adesso l'armatura sono messo bene Ah io l'ho Ho sette mele d'oro Sette No no il Kamikaze il Kamikaze Oddio non ho armi io Ah ok no no Ho trovato Mi sono accorto di avere una roba che fa quattro di danno Ma insomma quattro di danno non è che sia Cosa ho trovato? Cosa hai trovato? Perché ho quasi paura a saperlo No forse non tante cose belle Però armi non ne ho eh però Nooo Non ho messo male ad armi Mi è finita la roba nella lava Vabbè vabbè Senti io vado al centro Tu che vuoi fare? Eh adesso arrivo Arrivo Ok Tu di Ender Perone non ne hai vero? Adesso mi metto l'armatura OP che ho appena guadagnato Dio mio Ok mi stavo baggando tantissimo E poi uso l'arco OP che ho appena guadagnato Ah hai trovato un barato di robe quindi Ok perfetto perfetto Io sono al centro ho trovato un pochettino di cose Uh questo è interessante Questo è molto interessante Come ci si arriva al centro con questo Se mi dici Se mi dici Allora se mi dici dove sei vengo da te e ti passo l'Ender Perl No ce l'ho l'Ender Perl E allora perfetto Semplicemente spacchi il vetro e Ah eccolo lì le centro Ma c'è qualcuno ci sei solo tu perché vedo un personaggio Ce n'è uno sopra di me Oh di erro di erro anche cavolo No 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 Lezzo c'è un lezzo qua Ok Ok Ce la faccio No non ce la faccio mai Non ce la faccio proprio mai Cavolo 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 Ci devo allontanare Posso scappare ce la posso fare Ce l'ho fatta a culissimo Oh mio Dio Oh mio Dio L'ho fatto fuori io però Davvero Incredibile Un colpo Grandi emozioni comunque Oddio Adesso voglio la C'è un altro sopra se non sbaglio Perché avevo visto un nick eh Se non erro Quindi ora aspetta arriva al centro No perché quello lì tipo mi ha preso quando ero di spalle Sono accanto a te io E quindi L'ho levato tutta la vita comunque Sì c'è sopra un nome Due sono Ci sono due sopra di noi Vuoi Vuoi una mela d'oro? No no Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ce ne sono due sopra di noi E siamo molto attenti Io c'ho l'arco OP Quindi potrei anche tentare di buttarmi Ce l'ho anche abbastanza OP l'arco E stando Non ho visto quelli dove tirano Eh aspetta aspetta Sono proprio sopra il drago Capito? E quindi non so come andarci No uno è sotto Uno è sotto È sceso Lo vedo qua Tra il suo muro Lo vedi te? Qua sotto Io sta laggando da morire No da me funziona benissimo Aspetta Ha tirato due laggate spaventose Ma adesso è seri Ce n'è uno qua sotto Ok eccolo qua Siamo attenti eh Sì 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 tranquillo Sono sempre attentissimo io Tec ma hai mirato me Aspetta ci vado diretto Ci vado diretto tranquillo Ok Non ha Tanto l'enderpearl in mano Non può fare nulla questo qua Sta cercando di scappare questo L'ho visto di qua L'ho visto di qua Mi ci tippo anch'io No ho finito l'enderpearl E vabbè lui l'ha usato E l'ho usato anch'io Oh mio dio che spara che ho Non me ne era accorto Allora shop un pochettino Perché è bello shoppare Io lo so l'altro allora Sì 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 Perché ci ne era un altro al centro Dai muorici tantissimo Oh ma che cavolo Cosa ha fatto questo Ok l'ho ucciso l'ho ucciso Perfetto Tanto va shoppare Forse anche lui forse la trovate Non lo so Comunque Aveva l'arco triplo Ne è rimasto uno infatti eh Stai molto attento Che potresti averlo anche accanto Aveva tenderpearl questo qua Madonna tantissime No uno è vero Io ne ho una Ne ho due anzi Nell'inventario Quindi possiamo farcela Ok però Dovresti più o meno vedere Dove si trova l'altro Ce la fai a cercare Adesso vado a vedere Se in alto qualcuno c'è Perché dovremmo controllare Un pochettino questa roba Perché semmai sta disperso Nel mondo da qualche parte Dovremmo controllare Io vi voglio vedere Se aveva l'arco più Oppure no questo qua Perché ho visto Che c'era tantissimi archi No è power 1 Eh fa un po' schifo No c'era anche un altro Madonna Ma quanti ne aveva Altro più arco triplo Aveva archi a tutto spiano Madonna ma tipo 4 o 5 Allora qui sopra ti dico Che sopra il drago Non c'è nessuno No allora senti Io ne sono sicuro Che prima sopra il drago Ce n'erano due Ora Effettivamente ti ho visto Te sopra il drago Quindi non c'è nessun altro Ma Allora si sono scannati Tra di loro Quelli che erano I due sopra Qua non c'è nessuno L'ho visto L'ho visto L'ho visto Mi cittipo tanto Due ender per me Eh tranquillo Ci penso io Ci penso io Allora Lui però è messo abbastanza bene Perché ha un'armatura Buona Quindi io ci provo Prima di arco Ma dimmi dove è Eh lo vedi dove sono io Sono sopra quella del Cos'è questa roba qui Non so È dell'acqua penso Perché è abbastanza strana Penso sia acqua Sì Ok ho già tirato due frecciate Ma non è ghiaccio no Non sembrerebbe ghiaccio Ah ho capito sì Ok sì ce l'ho ancora infatti Allora Allora Questo qui posso fare La provata del secolo Ok Ecco hai messo la lava Ho visto Sì 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 Ho messo la lava Mangio una mela E questo qui se va nell'acqua È morto Se va nel Ecco L'ho shottato Prima Direttamente che potesse fare qualcosa Incredibile Comunque siamo rimasti Io e te Da ora è scontro diretto Te lo dico eh Cioè non c'è Non ci sono più regole ora Scontro diretto Si parte quando Cioè si parte sin da subito Quindi se enderpearl Ti tipi Se un enderpearl Ti attacchi un pochettino Allora io Io sono qua al centro Tu devi venire qua al centro Sì 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 Ma non arrivo io Perché non è bello se no 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 Transollo Perché comunque le ho io le enderpearl Però voglio vedere un attimo Questo qui cosa aveva Però Sembrerebbe Ma infatti cosa sto guardando Non c'era nulla questo Perché Perché sono ancora qui A guardare le sue cose tipo Allora arriva al centro eh Pronto Vieni 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 Dai ci sono Ci sono Dove sei? Vieni qui lezzino Vieni qui Vieni Vieni qua Brutto schifoso Vai Allora Allora te che c'hai un po' paura No 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 Ma tu non c'hai Oddio Vieni qua Vieni Lo so che c'hai paura Lo so te che Dai No Non devi buttare Finisce nella lava No Ti hai salvato tantissimo Come hai fatto? Muorici No No non valeva questa No perché non stavo Ne avevo 5 di bastoncini Ne avevo 5 addirittura Che poi non è che si cumulavano Però comunque ci stava Dai dai Ok ragazzi Seconda partita E tech Che proprio muore Perché vuole vendicarsi Ma che ne so io Madonna Io comunque parto già abbastanza bene Perché ho trovato subito un pochettino d'armatura E una spada che fa 7 e 5 di damage Questa cosa che ho trovato Eh tu trovi cose inutili tanto No l'importante Sì infatti è veramente inutile questa cosa Non ci credo Come prima Solita chest Arco Con power 1 E armatura Tipo con protezione 3 Vabbè Ma io ho una fortuna Che Non riesco nemmeno io a descriverla Ma do Comunque Ma perché mi incastro? Ok non ce l'ho fatta A scastrare Sono messo malissimo Lo dico subito Ma le ender pearl ne hai o no? Ho le ender pearl perché le ho prese Ma Oddio cosa ho trovato? Non ho armi Se viene al centro ti passa un'arma Allora se lo sai qual è il centro qua su questa mappa? Quello dove c'è Dove c'è la casetta russa Col tetto rosso Ok Tipati lì Io sono nel pezzo di sopra Se c'è qualcuno Sì c'è qualcuno infatti Eh Provo Siccome ho un'accetta Provo a spaccare tutto E a spaccare anche lui proprio Quindi un attimo Io perché non ho Madonna E full diamond E full diamond lui Cavolo Ma ha un piccone Ha un piccone che fa 4 di danno Sì 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 Forse riesco ad ucciderlo Sì sì L'ho preso un bordello di volte Ce la faccio Ce la faccio sicuramente No St'ha ammazzato No l'ho buttato di sotto Ma volevo la sua armatura Perché non aveva più vita Tipati al centro comunque ormai Sei te Ok perfetto Tech tiene un'arma Oltretutto molto buona Fa 4 Ah come la tua Ma la stessa Ma no Fortuna 3 Ma non fa niente Ma se fa 6 di danno Ma non è tanto 6 di danno non è tanto Bello mio La mia che non spara in legno Cioè in legno In stone incantata Con Con sharpness 2 Fa 7 e 5 6 di danno è buonissimo Questo è meglio Cosa hai trovato? Lo dico Ui ti ho rubato le mele No l'ho presa io forse No l'ho presa io in verità Ma magari ce n'erano anche Non lo so Comunque oddio ho trovato un arco Dove è finito? Non lo so Questo è molto meglio Mi è sparito l'arco Ma comunque guarda Siamo rimasti ancora in tantissimi Adesso vediamo di farli fuori dai Eh si ma dove Dove staranno gli altri Se sono rimasti ancora Così tanti vivi Si lo sa Tutti ancora camperati Come le zini Che non shoppano nelle loro isole Ho trovato l'ender Per buone buone Con questi amici Tipo easy Nelle loro isole Per non shoppare E sopra c'è qualcosa Oppure no Che non ho controllato C'erano i lacchi E infatti se non ricordo male C'erano delle cose buone Vabbè apro i lacchi Giusto per sapere cos'è Senti una cosa Ti lascio da solo al centro Ce la fai a vivere oppure no? E penso di sì Perché non dovrei Scusi Non lo so Io mi tippo da uno Dovrebbe essere tanti È cattivo Oddio no no C'è il bastoncino come di me prima Ecco vedi Incredibile È incredibile Lo butto lì sotto con due sparate Allora Accanto a me di qua non c'è nessuno D'altra parte non c'è nessuno Tecni io ti ricordo che te al centro sei da solo Quindi chiunque vedi Non sono io Non è amichevole E ti vuole uccidere Forse non ti vuole uccidere Però non si sa mai Comunque Se hai un bastoncino sono finito Sono rimasti altri due da uccidere Io sono in questa zona qui Non so se mi vedi Tipo che saltello come un pazzoide E accanto a me non vedo nessuno Ma non vedo nessuno nemmeno dall'altra parte Però penso ci sia qualcuno di là Quindi quasi quasi mi ci tippo Così dovrebbe essere tirato a modo Vediamo No Non ci credo Ho preso l'angolo L'angolo Ma che sfiga è questa Ah metano è morto No vabbè E adesso ti vendicherò Vabbè Veramente prendere l'angolo E' una sfiga tremenda E' un nabbo delle enderpearl Però non è Sincero Incredibile Eh vabbè Ok ragazzi Quindi abbiamo fatto due partite Una l'abbiamo stravinta No no Stravinta no Però abbastanza vinta Si la seconda l'abbiamo persa brutalmente Per errore nostro Perché sennò ovviamente Avremo arato il Tec pure lì No non è detto Però poteva anche essere Non è vero Perché Tec ragazzi L'ha vinta la seconda E oltretutto Era messo ancora abbastanza bene Quindi forse ce l'avrebbe anche spaccato Comunque Vi ricordo che in descrizione Ci trovate il suo canale Spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto Ed ciao a tutti Ciao 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 Ciao